Sempre se rimaniamo in vita, all'interrogazione 3.2775 degli onorevoli Folino ed altri, concernente iniziative urgenti di competenza in relazione alla vicenda di notevoli rincari degli abbonamenti ferroviari sovraregionali. Onorevo Folino, un minuto, prego. Con questa interrogazione il gruppo parlamentare di Sinistra Italia Onorevo Folino, le chiedo la cortesia se può cambiare microfono con quello del collega a fianco. Grazie. Grazie Presidente. Con questa interrogazione il gruppo parlamentare di Sinistra Italiana chiede al Governo di fare luce su una vicenda che ha colpito negli anni migliaia di pendolari, costretti a subire, secondo quanto emerge dalle risultanze, i giustificati aumenti delle tariffe ferroviarie, la scoperta di una vera e propria distorsione tariffaria a causa di un algoritmo che ha portato gli abbonamenti dei treni a costare sino al 33% in più. È un fatto gravissimo che impone al Ministro di avviare un'ambia attività ispettiva per accertare le responsabilità anche in capo a Trenitalia. Com'è mai possibile che, pur essendo questo meccanismo distorto in funzione da ben dieci anni, solo grazie all'intervento delle associazioni dei pendolari si è scoperto degli ingiusti aumenti? Se è vero che le tariffe vengono fissate agli enti locali, cosa ha fatto Trenitalia in tutto questo periodo? Subito è scattato un triste rimballo delle responsabilità per Trenitalia, la determinazione dei tariffe nel trasporto regionale e competenze esclusivi delle regioni e province autonome. L'algoritmo a cui fanno riferimenti in media è quello definito in sede di approvazione della conferenza delle regioni. Chiediamo chi ha sbagliato e chiediamo di procedere all'immediato risarcimento della protezione dei pendolari colpiti da quello che sta assumendo i contori di una vera e propria truffa nei confronti di tanti cittadini che ogni giorno prendono il treno per recarsi al lavoro, spesso essendo costretti a utilizzare i servizi scadenti. Grazie. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie Onorevole Folino. Il tema proposto merita sicuramente grande attenzione perché attiene alla tutela dei cittadini, in particolare dei pendolari, che sono un'opportunità per questo Paese di fare un grande passo avanti sul trasporto pubblico locale. La determinazione, non c'è nessuna ambiguità, la determinazione delle tariffe nel trasporto regionale rientra tra le competenze di ciascuna regione e provincia autonoma, mentre per i treni che servono nel territorio di due o più regioni la sede è la Commissione Trasporti e la Conferenza delle Regioni. Quindi la competenza è lì. E lì si stabilì di introdurre la tariffa.